Per le interviste di Tribuna Stadio abbiamo Stefano Tiranti, tecnico vincitore del campionato con il Marina. Intanto, subito, le chiediamo il futuro. Futuro a Marina e sperando di proseguire questa cosa che abbiamo già fatto l'anno scorso in maniera positiva. Il campionato di eccellenza è un campionato difficile, probabilmente già ha guardato il mercato, i chiacciatori che le interessano. Già preso qualcuno? A questo momento stiamo trattando qualche giocatore, stiamo più di tutti parlando con qualche giocatore che ha voglia di venire a Marina, ha voglia di fare bene, ha voglia di stare in un gruppo buono. Un alleatore che vince un campionato, che prende anche un premio giusto, un riconoscimento che viene anche dai suoi colleghi. Una soddisfazione particolare? Ma, innanzitutto, devo ringraziare tutti quanti che mi hanno votato, questo è scontato. Però, sì, è un premio che, i premi quando si prendono, si prendono sempre con grosso entusiasmo, ma anche con grande responsabilità. La panchina d'oro, però, è anche sacrificio. Però, se c'è la passione, come lei ha sempre dichiarato, è meno sacrificio? Sacrifici se ne fa tanti, perché alla mattina dobbiamo andare a alzarci per andare a lavorare, e poi alla sera dobbiamo andare al campo, dobbiamo fare tante cose. Però, effettivamente, sì, questa, io dico, è una malattia, il calcio per me è una malattia e va bene così. Grazie. 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 Grazie.